ciao ragazzi ben ritrovati buon sabato e buona vigilia di juventus rom appena finito massimiliano allegri di parlare in conferenza stampa non ha detto niente di incredibile ha fatto un punto della situazione sui giocatori che ha recuperato mi è sembrato di vederlo un po abbattuto questo sì forse anche complice al fatto che è squalificato domani non voglio entrare nel merito di quello che è accaduto perché sapete come la penso quando una squadra inizia a lamentarsi dell'arbitro alcune decisioni arbitrali inizia a scricchiolare qualcosa e non ho mai visto una squadra che si lamenta dell'arbitro un allenatore che si lamenta dell'arbitro giocatore che si lamenta dell'arbitro quando si vince al termine di una partita vinta quando non si vince ci sono anche queste cose non fa parte della mia mentalità fermarmi a parlare l'arbitro infatti come avete visto non ho mai dedicato tempo a parlare dei minuti di recupero aggiuntivi per battere un calcio d'angolo per il mani di Mertens in aria poi gli episodi è giusto analizzarli ma non fa parte del mio modo di intendere del calcio ecco questo ci tengo sempre a sottolinearlo con grande chiarezza però Allegri oltre a essere un pochino abbattuto ha tirato fuori un discorso interessante ma soprattutto gli hanno buttato addosso un discorso interessante partiamo da quello che ha fatto Allegri ha detto ci saranno dei cambi qualcuno ha giocato di più quindi lasciate intendere che ci sarà un po di turnover qualcuno ha giocato di più tra l'altro mi fa ridere perché con Napoli la prima partita del 2022 ma questo è un altro discorso ma soprattutto Allegri cosa ha detto io quando sono arrivato qui ero consapevole del fatto che sarebbe stato il primo anno in cui avrebbero cominciato a cambiare la squadra cominciare a lavorare per poi competere a lottare per lo scudetto per il futuro sapete come la penso nel momento in cui Allegri arriva la Juve e c'è la stessa squadra l'anno scorso più Locatelli e c'è ancora Cristiano Ronaldo per quanto mi riguarda la Juventus in Serie A ha la miglior rosa in assoluto poiché vinca il campionato nuovo e quello sarà il campo a dircelo nel momento in cui va via Cristiano Ronaldo vi dico che se prima avevamo la miglior rosa in assoluto la Serie A probabilmente adesso si piazza insieme a quella di Milan-Atalanta leggermente meglio di quella del Napoli e questa è una critica che faccio da Allegri nel senso che se comunque hai una delle migliori quattro rose in Serie A e sei Massimo Milano Allegri hai uno stipendio di alto livello tu non puoi permetterti di rimanere fuori dalla Champions League perché comunque devi dimostrare che i giocatori che è rosa e tu stesso allenatore della Juventus sei in grado con questi giocatori di raggiungere le posizioni che competono a questa rosa ma questa è una mia posizione personale so perfettamente che ci sono persone che ragionano sul fatto che la Juve ha comunque la miglior rosa in Serie A o persone che sono più disfattiste e mi vengono a dire questa è la rosa che si piazza tra la sesta la settima ottava posizione di qualità in Serie A io non sono d'accordo secondo me questa rosa non è adatta per vincere lo scudetto ma è una rosa adatta per entrare in Champions e per questo che poi vedo che la Juventus ha subito pochi gol va bene perché ci siamo ripresi a un certo punto ma continuiamo a non fare gol per quanto secondo me serva un attaccante per fare quel qualcosa in più ad oggi l'attaccante ti serve perché troppi punti ormai li ha lasciati andare non tanto perché questa rosa dall'inizio non potesse farlo e lasciate andare quei punti quindi ora ti serve il boost serve quel qualcosa in più io sono deluso d'Allegri cioè inutile metterci qua e nascondere questa cosa ve l'ho già detto tante volte quando abbiamo fatto il pagellone ve l'ho detto anche nelle pagelle di ieri ci sono tante cose che di Allegri non mi convincono quando è tornato quest'estate non lo nascondo io ero contento ero contento di mettere sulla panchina da Juventus quello che io considero un allenatore bravo un grande allenatore questo non me lo toglierete non mi toglierete l'idea di Allegri della prima gestione della Juventus questa è una cosa che rimane lì ad oggi però non sono contento non sono contento e tante volte mi sento di dire e mi metto a pensare questo non può essere assolutamente il percorso che va a fare un allenatore della Juventus come Allegri pagato tanto quanto Allegri con l'esperienza di Allegri con una squadra così tranquillamente lo dico perché io non rimango mai fossilizzato dal passato guardo sempre l'attualità e quindi Allegri inizia a farci capire sempre più costantemente che quando l'hanno chiamato l'idea della Juventus era comunque quella di non lottare subito per lo sudetto quindi consapevolezza nei piani alti Juventus se traduciamo questa frase di Allegri di non essere competitivi per raggiungere lo sudetto tradotto mi viene da dire se hanno seguito i miei standard di valutazione che Cristiano Ronaldo era destinato ad andarsene sapevano che sarebbe andato Cristiano Ronaldo non dico al 100% ma quasi poi magari saranno rimasti sorprese dal fatto che se ne sia andato a pochi giorni la chiusura del mercato ma allora diventa ancora più grave non essersi messi avanti nella ricerca di un giocatore che avrebbe dovuto sostituirlo Cristiano Ronaldo e buttarsi a capovito su Ken agli ultime giornate di mercato per tappare un buco un buco che ti costa 40 milioni di euro di obbligo di riscatto quindi ci sono tanti pezzettini nel puzzle che se li incastri alla fine vedi la frittata poi bisogna capire chi mente chi dice la verità però se seguiamo questo percorso c'è un po di discrepanza poi un giornalista invece mette in difficoltà Allegri raccontandogli che l'anno scorso quando è andato al club Piro dell'antore della Juventus lui stesso ha detto quando arriva a gennaio una squadra che ha gli stessi problemi sono cronici non li risolvi ormai sono quelli io da Allegri non mi aspettavo che arrivasse a darmi una squadra calcio spettacolo triangolazione destra e sinistra perché so che non è questo che ti garantisce Allegri Allegri ha anche tante altre caratteristiche tante altre peculiarità che gli hanno permesso negli anni di vincere non le sta mostrando non le sta mostrando perché Allegri non può permettersi di pensare che questa Juve sia possa essere vittoriosa o possa raggiungere risultati con gli stessi metodi applicati con le Juve del passato è assurdo questa cosa non la puoi ragionare non la puoi pensare sono tutte critiche che vanno rivolte all'enatore sono cose che non possiamo tenerci in bocca vanno buttate fuori quindi io rimango convinto che la Juventus terminerà l'anno con Massimiliano Allegri ma ve lo dice uno che prima di arrivare a pensare guardate che anzi a pensare a confermare che Pirlo andava sostituito è arrivato alla quarta ultima giornata di campionato perché sono sempre per dare il tempo alle persone poi in base a quello che mi tiri fuori si fanno delle valutazioni per Sarri perché tanti mi continuano a dire eh ma che cosa dicevi di Sarri quando c'era Sarri lo volevi cambiare e io l'idea di giusto cambiare Sarri l'ho avuta la sera post Lione quindi l'ultima partita di Sarri è inutile che mi vengano a dire cose che non erano vere poi esprimevo dei giudizi avevo dei punti che non mi convincevano su Sarri questo sì come c'è avevo su Pirlo come c'è avevo su Allegri e all'epoca dissi che era giustissimo far andarvi Allegri come c'è io adesso io penso di mantenere la stessa linea un po' su tutti penso di essere abbastanza coerente nelle valutazioni con tutti gli allenatori che sono stati alla Juve in questi anni quindi cose positive cose negative le troverò sempre in tutti non arriverò mai a dire non toccatemi questo perché non toccatemi quello perché o massacratemi questo perché non è il mio modo di fare ma non è il mio so che tante altre persone ce l'hanno diverso sembra anche assurdo che si debba litigare sul fatto che o io o voi dobbiamo essere diversi ognuno ha il suo modo di intendere le cose quindi io ho dei miei ragionamenti su Allegri ad oggi mi portano alla totale insoddisfazione perché secondo me è palesemente insufficiente quello che sta proponendo la Juventus in questo momento e potrebbe proporre molto di più maggior ragione quando mi dice Allegri stesso arrivi a gennaio ci sono degli scontri rietti importanti ma i problemi che avevi prima ce li hai ancora sono cronici te li porti dietro fino alla fine della stagione per questo non mi aspetto niente da questa Juve ma a partire da domani a partire la partita con la Roma è necessario buttare dei punti nel calderone perché ogni giornata che passa sembra una banalità ma lo è sono tre punti in meno e se gli altri punti invece li continuano a fare tipo il Milan con la Roma proprio e tu continui a lasciarne indietro con il Napoli sono dei punti che non ti tornano già più indietro in una rincorsa che tu dovevi fare è come schiacciare una bottiglia di plastica alla fine arrivi ad appiattirla e quindi non ci sono più punti in paglio e quindi la classifica diventa ufficiale continua 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 rimani fuori dalla Champions stai muto e te lo meriti perché il campo ha deciso questo senza bisogno di dire al 97esimo dovevi farmi battere il calcio d'angolo la Juventus non può dire al 97esimo devi farmi battere il calcio d'angolo la Juventus se voleva vincere quella partita ci pensava prima e la vinceva in un altro modo sul campo la Juventus è questo che secondo me stiamo iniziando a ballare anche a livello di mentalità proprio la vinci sul campo prima perché c'erano le possibilità ne abbiamo avuto l'occasione abbiamo portato anche l'analisi tattica abbiamo fatto vedere che comunque qualche occasione la Juve l'ha avuta non le sappiamo concretizzare non le sappiamo sfruttare adesso arrivo a ragionare invece sulle formazioni perché ora non so quale sarà la formazione Allegri ha detto vediamo come sta Chiesa vediamo come sta Di Bala però io mi sono anche abbastanza stancato se devo dirvi la verità di ragionare su una squadra che non è una squadra vera e propria cioè ci saranno dei cambi e questa la mettiamo qui questa la mettiamo là l'anno scorso con Piero ci si ha lamentati che 38 su 38 le ha cambiate Allegri l'ultima stagione della Juve 38 su 38 le ha cambiate con Sarri ci eravamo lamentati perché all'inizio invece giocava sempre con la stessa però Sarri è stato l'unico coerente nel battezzare una formazione portarsi avanti quella poi a un certo punto capiva che quella non funzionava più ne passava un'altra 4-3-3 4-3-1-2 4-4-2 però ci siano dei grandi blocchi di partite in cui Sarri insisteva su quegli uomini lavorava su quegli uomini e si vedeva qualcosa non si vedeva chissà che cosa perché secondo me tra Sarri, Pirro e Allegri le ultime tre stagioni tutte e tre hanno sbagliato tanto non per questo sia Sarri che Pirro sono stati allontanati ora vedremo ad Allegri, secondo me no se rimarrà questa dirigenza se cambierà la dirigenza invece è molto probabile un addio anche a Massimiliano Allegri secondo me i due destini vanno avanti in parallelo sono legati da questo famoso filo rosso del destino però la Juventus ora deve prendere una decisione e portare avanti un'idea ok? perché io ora vi butto qui questa è la formazione che schiererei di default ma vi spiego anche il perché perché guardandola così ognuno di voi potrebbe avere delle altre idee ed è giusto che sia così però io ragiono su una formazione che deve essere competitiva che deve terminarmi l'anno ok? in maniera competitiva e che possa darmi qualcosa anche per il futuro quindi io metto Cesni in porte va bene Delita e Bonucci va bene Pellegrini perché l'ho detto nelle pagelle di ieri il mio titolare è Pellegrini e Alexandro diventa l'ultimo della lista e Danilo a destra perché secondo me Danilo è un giocatore che deve giocare un giocatore che nella Juve negli ultimi anni a parte il primo ha fatto molto bene è un giocatore che ci crede anche tanto nella causa e i giocatori che ci mettono anche il cuore secondo me devono giocare poi Locatelli e McKennie davanti alla difesa perché questi sono i due migliori centrocampisti che abbiamo in rosa al momento Chiesa di Bala Quadrado e Moise Ken Chiesa di Bala Quadrado perché mi porto dietro sto mantra da inizio campionato non l'ho ancora visto secondo me è l'unico modo che ha la Juventus per creare qualcosa lì davanti avendo delle frecce sia destra che sinistra sfruttando gli esterni perché questo siamo Moise Ken invece di Morata proprio perché come vi dicevo e basta guardare anche Pellegrini per dire è ora di guardare al futuro è ora di dire bene guardiamo anche sul lungo non solo sul breve sul breve sì perché abbiamo questi sei mesi per concludere l'anno ma sul lungo anche perché Moise Ken lo ripeto è tuo 40 milioni 40 milioni di euro è tuo lo devi valorizzare Alvaro Morata tra sei mesi non è più tuo e quindi faccio rimanere titolare un giocatore che non è più tuo e invece tengo in panchino un giocatore che sarà tuo lo paghi 40 milioni poi secondo me tra Ken e Morata in questo momento c'è un divario incredibile più forte è Morata ma questo non significa che Morata non possa entrare e cambiarti la partita e stiamo gestendo male i cambi anche secondo me l'altra sera di Bala non può fare mezz'ora che entra e due o tre robe te le fa però in mezz'ora ti fa quelle poche volte che entra in possesso del pallone senza ribale chiesa noi non creiamo tendiamoci su questa cosa Morata di testa ne ha fatti zero fino adesso Moise Ken almeno qualcosa sul gioco aereo te lo mette anche Moise Ken fa fatica a giocare a spalla alla porta io rimango sempre dell'idea che bisognerà intervenire sul mercato e prendere un attaccante 99 su 100 si rimane così disse Allegri e allora proviamo a ragionare su questa rosa 99 su 100 che potrebbe averla Juventus ma non solo sull'immediato anche sul lungo quindi questa è la mia idea poi succede come oggi che c'è qualche infortunato c'è qualche giocatore che non deve giocare c'è qualche giocatore fuori disponibile perfetto c'è anche la formazione delle riserve bene o male vi ho messo nelle posizioni ideali i giocatori che allora Kuluzeski è un giocatore che potrebbe addirittura giocare a titolare però con la fascia a destra Danilo Quadrado la sento abbastanza coperta però nella mia testa Kuluzeski è il primo cambio è il giocatore che entra e ti cambia la partita non può giocarmi gli ultimi 8 minuti non può giocarmi i culo gli ultimi 8 minuti se lo devo valorizzare e se devo tenere lì un giocatore che ha un valore di una trentina di milioni di euro in un momento in cui non ho soldi e se lo faccio giocare a 8 minuti allora per il bene della Juventus e per il bene di Kuluzeski che ci saluti e che questi soldi vengano reinvestiti in un'altra posizione se invece te lo tieni deve essere veramente il giocatore in grado di cambiarti le partite di entrare e cambiarti le partite più di 8 minuti più di 8 minuti poi c'è Morata come dicevamo prima Bernardeschi che è un altro che sta facendo molto bene quest'anno ma nella mia testa se c'è i chiese quadrado sulle fasce loro sono i titolari perché sono giocatori che ti danno più di tutti gli altri poi hai la possibilità di schierare Bernardeschi partite in corso o turn over perché comunque il turn over capita ma rimanendo ancorato che quella è la formazione dei titolari questa è la formazione delle riserve dove Caio è un po' complicata la situazione perché secondo me è il vice Di Bala è un giocatore che ha le caratteristiche di Di Bala più che di Morata di Ken non è una prima punta però tu puoi benissimo fare il 4-4-2 se non c'è Di Bala quella volta fare Morata-Ken non è un problema con chiese quadrado sugli esterni questo non è un problema Caio è quel giocatore classico che devi iniziare a mettere minuti nelle gambe ma a me sembra di vedere che non sia ancora pronto e che non lo considerino ancora pronto per questo gli fanno fare così pochi minuti quindi quest'anno credo che Caio lo concluderà così da giocatore che giocherà veramente pochi minuti questo punto un prestito secco fino alla fine dell'anno io lo prenderei in considerazione Arturo e Bentancur perché sono i due sostituti perfetti di Locatelli e McKennie McKennie Bentancur Allegri ci ha detto mille volte che li vede uno alter ego dell'altro e Arturo Locatelli ce l'ha fatto capire Desciglio sulla destra come terzino e qua vi dico sia a destra che a sinistra infatti Alessandro come vedete è in minuscolo perché io credo che sia necessario a questo momento determinati giocatori mettersi nella testa che sono in uscita non sono più giocatori e da Juventus è vero che anche Bernardeschi e Desciglio sono in scadenza ma come riserve sono perfette se poi le vai a rinnovare ancora con meno ingaggio perché di questo si parla giocatori che stanno lì muti giocano solo quando sono presi in considerazione ma devono guadagnare poco perché non possono guadagnare i soldi che guadagnano ora Alessandro in minuscolo perché è un giocatore che guadagna troppo ma veramente troppo se accetta di ridurci lo stipendio e di non essere titolare io ottengo Alessandro decide di guadagnare 2 milioni di euro all'anno ma gioca a Pellegrini lo tengo ma lui non accetterebbe mai una roba di questo tipo quindi Alessandro grazie per tutto quello che c'è stato le nostre strade si devono dividere Chiellini e Rugani vabbè sono gli altri due centrali e Perine e Pinsoglio rimangono fuori da questo discorso appunto Sandro che ho messo in minuscolo Ramsey che è un giocatore in uscita ce l'ha detto anche Allegri e Rabiot e Rabiot che è lo stesso identico discorso di Alessandro un giocatore come Rabiot non può essere titolare della Juventus con quelle cifre lì cioè è inutile che ci prendiamo in giro oltre al fatto che ora vedremo dal 10 dato che a quanto pare Rabiot è un giocatore non vaccinato probabilmente non potrebbe nemmeno più scendere in campo per la Juventus vediamo come va a finire questa storia poi magari qualcuno a centrocampo potrebbe arrivare io in questo caso sono disposto oppure a dare Caio in prestito per un centrocampista in più con determinate caratteristiche che ci mancano però Ramsey che ormai è fuori dalla Juventus è in uscita Rabiot e Alexandro io penso che a un certo punto se determinati giocatori non hanno fatto vedere niente e hanno degli ingaggi fuori mercato e sul campo non rendono si è giunto il momento di metterli fuori di metterli fuori perché non è più logico continuare a insistere su certi giocatori che non ti danno niente poi è ovvio che dovremmo fare un sacco di interventi per rendere ancora più competitiva la squadra però partiamo dalle piccole cose alcuni giocatori perché basta non li vediamo più una squadra che questa è quella titolare una squadra che sia sul corto quindi fino a giugno e sia sul lungo quindi alcuni giovani da valorizzare giocano loro questa è un po' la mia idea e fare la formazione in questo modo diventa ancora più facile poi ci sono le volte che magari non giochi di male non vuoi fare il 4-4-2 e quindi fai il 4-3-3 quello non è un problema ma di default quella è la formazione titolare se ce li hai tutti giocano quelli non è che diciamo però sai oggi spostiamo un po' a destra questo no sono le stesse cose che ci portiamo dietro da anni ormai e continuiamo a non sapere qual è la Juve titolare qual è la Juve titolare di Sarri boh perché Sarri comunque andando a continuare le formazioni però ha cambiato 3-4 moduli durante l'anno non lo sai formazione titolare di Pirlo boh 38 diverse formazione titolare di Allegri boh fino adesso 20 diverse iniziamo a dare continuità iniziamo a dare una concezione di squadra titolare e i gradi di titolare ad alcuni e a far capire ad altri che non giocano più questa è la mia presa di posizione questa è la mia richiesta per il futuro questo uno dei modi per quei famosi problemi che a gennaio diventano cronici provare a far diventare un po' meno cronici fatemi sapere la vostra qui sotto in descrizione noi ci vediamo domani magari su Twitch domani pomeriggio facciamo la raccolta dati della Roma e cerchiamo di capire che partita sarà